Ben trovati, questo è il notiziario settimanale di Senigallia Notizie. Ad Ostra, la giunta Fanesi vota contro le istanze promosse dal comitato 15 settembre. Consiglieri di impegno per Ostra, decisione gravissima contraria agli interessi della cittadinanza colpita dall'evento alluvionale. Record di partecipazioni a Senigallia per la passeggiata in rosa per la vita. Oltre 1.400 partecipanti hanno camminato insieme per la prevenzione e la solidarietà. Dario Romano, 250 giorni dalla richiesta di audizioni di acquaroli e babini a Senigallia. Che fine ha fatto la commissione su Ponte Garibaldi e sul fiume? Fish Market, il festival che celebra il pescato locale e l'economia del territorio, a Senigallia dall'11 al 13 ottobre. Imbarazzante gestione di piazza in commissione, lasci il posto a qualcun altro. La maggioranza attacca convocate la prima e la quarta per la mozione sull'Hub aeroportuale, ma senza chiamare i soggetti competenti. Opposizione, da maggioranza gestione imbarazzante strumentale sulle commissioni, PD, DAF, Vivi e Vola Senigallia sulla mozione Hub Ryanair, bello sfiduciato dal suo stesso partito. Fondazione Città di Senigallia, il commissario Canafoglia risponde punto per punto a Mangialardi. Venga a vedere come funzionano le cose, qua non si è mai visto e si parla pure di laboratorio analisi. Terminati i lavori per oltre 4,7 milioni alla scuola Fagnani di Senigallia, taglio del nastro dopo la conclusione di miglioramento sismico e adeguamento impiantistico, destinate nuove aule ai bambini. Confinati in una conca in zona alluvionale, il comune avvia il procedimento contro lì dell'Italia, la segnalazione dei residenti del condominio Barbon e del loro legale Roberto Paradisi. Polemiche su commissioni, Bernardini, replica minoranza, provocazione tirami in ballo, presidente, quarta commissione, direzione lavori, era di piazzai, massima fiducia bello, io non sperpero denaro pubblico. E adesso i nostri servizi. Stile di vita marchigiano, modello salutare. Un evento dedicato allo stile di vita marchigiano come stile di vita svolto il 4 ottobre alla loggia dei mercanti di Ancona. La regione Marche Gode di un primato in Italia per longevità attiva e prospettiva di vita, con una media di addirittura ultraottantenni in salute che supera quella del resto del paese. La politica ha messo in campo due leggi, una legge sui menu, la ristorazione, quindi la buona alimentazione, i prodotti e sul benessere, quindi il benessere è importante che cammina parallelamente a quelli che sono i temi della salute. La prima cosa che mi viene in mente è per il territorio marchigiano, la planimetria marchigiana, 120 km per 60, 120 km di lungomare, non sono 120, saranno 100. Abbiamo la percentuale di palestre por capita la più alta d'Italia. Abbiamo una filiera corta, perché dal produttore a consumatore i chilometri sono pochi, quindi l'alimento, carne, besce, frutta, verdura, mantengono quelle caratteristiche organolettiche che danno un'ottima salute. In più il marchigiano fa molta attività fisica, sia per le palestre che per la distribuzione del territorio. Questa attività fisica fatta in aerobiosi, cosa vuol dire aerobiosi? Vuol dire quell'attività fisica fatta in modo, non dico lento, ma non sicuramente veloce. È quell'attività fisica che brucia grassi e aiuta a mantenere il peso corporeo. Questo è un evento importante perché sottolinea quanto anche gli stili alimentari, in questo caso stili anche di vita in senso più largo, possono aiutare anche a prevenire, a educare le modalità sbagliate, in questo caso alimentari o di stili nutrizionali, che secondo me possono portare anche di migliori risultati nella prevenzione della patologia, assolutamente sì. Quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose e con la forza dei nostri soci viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC, ci riconosceremo al volo. Presso la sede della Regione Marche una mattinata dedicata al bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e educazione alla cittadinanza globale. È importante perché la Regione Marche investe diverse risorse, soprattutto ultimamente per la cooperazione internazionale e la cittadinanza globale. Abbiamo vinto un bando importantissimo a livello europeo, di cui eravamo capofila, Ghirap, 6 milioni in totale, di cui 1 milione e 200 mila a gestione della Regione Marche, con dei bandi che oggi presentiamo appunto in questo Info Day rivolto alle associazioni del terzo settore, a tutti coloro soprattutto legati al volontariato che da anni costruiscono progetti soprattutto per l'Africa perché ci stiamo impegnando su un focus specifico rispetto all'Africa. Oltre il progetto Ghirap che è rivolto soprattutto ai giovani alla sostenibilità e alla cooperazione, abbiamo due linee di finanziamento attraverso anche qui dei bandi. Una prima linea rivolta proprio per la cooperazione internazionale, rivolta soprattutto a delle attività di investimento anche riguardo le attività produttive, sull'agricoltura, il commercio, l'artigianato e un'altra invece di 300 mila euro, un'altra di 200 mila euro sulla cittadinanza globale. Quindi la Regione è presente e in più staremo piano piano, ci confronteremo con il Governo nazionale per il Piano Mattei, un piano fondamentale di sviluppo dell'Africa dove vorremmo in qualche modo inserirci con delle progettualità nuove anche come Regione Marche. Un evento che unirà costa e dentro terra è la novità della 59esima edizione del Verdicchio d'Oro, il premio nazionale di cultura enogastronomica patrocinato dal Consiglio regionale e presentato a Palazzo delle Marche. Quest'anno abbiamo pensato, era da tempo, di aprire un po' i nostri fronti per quello che riguarda di esportare il vino, quindi il Verdicchio, il premio e abbiamo pensato in una città della costa, abbiamo pensato a Senigallia in modo che si possa costruire per il futuro un abbinamento tra il mare e la collina. In questo caso con i prodotti del Verdicchio insieme con il pesce cercheremo con l'amministrazione comunale di Senigallia di instaurare per il futuro un buonissimo rapporto come del resto c'è ma vorremmo fare anche questa iniziativa che sicuramente sarà positiva per quello che riguarda l'aspetto del turismo ma noi un po' che viviamo l'area in terra soffriamo un po' di quello che è il discorso legato all'occupazione, allo spopolamento e così via e quindi questa è una risposta positiva oltre a quella che abbiamo presentato da ultimo un bando per i borghi con la Regione Marche e cercheremo in qualche maniera di poter utilizzare al meglio quei fondi per incentivare il discorso del turismo perché il nostro territorio è evocato particolarmente al turismo e alla costruzione di tantissime aziende produttrici di Verdicchio e non solo come abbiamo anche tantissimi altri prodotti però abbiamo quella qualità, quella scenoguità dell'entroterra marchiciano che con la lavorosità di tanti ragazzi che hanno investito sull'azienda agricole ci porteranno sicuramente a nuovi traguardi molto ambiziosi. Il territorio è l'elemento centrale ma abbiamo talmente tante specialità da dover rappresentare da dover proporre che è sempre più un momento di aggregazione e attrazione per uno sviluppo sia dal punto di vista turistico ma anche di una sana alimentazione dei prodotti quindi questo è assolutamente l'elemento centrale e questo premio da 59 anni fa proprio riferimento a questo aspetto che quindi portare e cercare di essere un momento di confronto con personaggi della cultura, dello spettacolo che in un certo quel modo hanno dato valore aggiunto a questo che è un principio che diciamo il nostro territorio e le marche da sempre hanno come riferimento principale quindi territorio, buona cucina e prodotti di altissimo livello. L'ospedale migliore d'Italia è il grande lavoro in corso per l'integrazione tra ospedali e territorio. Sono i due motivi principali per cui Ancona è stata scelta come sede del G7 Salute. Lo ha ribadito il ministro della Sanità Orazio Schillaci nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta alla Mole Vambitelliana. Ancona e le Marche oggi sono la capitale della sanità mondiale dove tanti ospiti di caratura internazionale si sono ritrovati da noi per affrontare le sfide del futuro. Credo che questo debba essere un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità sotto molteplici punti di vista. Presidente, la salute marchigiana è un modello di mitare? La salute marchigiana nonostante tutte le criticità post-covid e tutte le difficoltà di questo momento che purtroppo dipendono da tante variabili e non tutte riconducibili chiaramente al nostro operato è una sanità che a livello nazionale sicuramente ha dei risultati importanti. È una regione che storicamente è tra le prime per il rispetto di Lea, è una regione benchmark quindi unisce la qualità dei servizi anche alla tenuta dei conti. Nelle Marche per due anni consecutivi abbiamo avuto il miglior ospedale pubblico d'Italia e soprattutto dato che si parla anche di longevità, la nostra è una regione che ha nel suo DNA la longevità, una delle regioni più longevi d'Europa e abbiamo IRCA che è l'unico istituto nazionale dedicato proprio alla ricerca sulla geriatria. Uno dei motivi per cui abbiamo scelto di venire le Marche è perché l'ospedale universitario di Ancona, dai dati del ministero di Agena, si è risultato per il secondo anno consecutivo il miglior ospedale pubblico italiano e quindi questo testimonia quanto nelle Marche si sia attenti alla salute dei cittadini. Questo G7 si è svolto all'insegna della collaborazione, della cooperazione tra i vari paesi. Allora quali sono le sfide del futuro da vincere sulla sanità? Le sfide del futuro da vincere sono quelle di avere una visione One Health come quella di cui abbiamo discusso questa mattina, di trovare delle sinergie comuni per sconfiggere l'antimicrobico resistenza che è la pandemia di oggi e purtroppo se non si interviene subito lo sarà sempre di più negli anni successivi. Bisogna avere delle strategie per la prevenzione legata all'invecchiamento attivo. Questo è un fattore determinante per una nazione come la nostra che è particolarmente longeva e quindi bisogna che ci sia un cambio di passo, che si capisca quanto sia importante investire in prevenzione. L'investimento in prevenzione è un investimento e non è una spesa. Si parlerà anche di architettura globale sanitaria per venire incontro anche alle esigenze dei paesi che hanno meno risorse e poi di intelligenza artificiale che può essere veramente un sussidio fondamentale per la sanità.